E' accusato di aver ucciso a pietrate e gettato nel fiume la moglie per gelosia. Si è aperto oggi in corte d'assisi a Pesaro il processo nei confronti di Nicolae Roset, 52 anni in Moldavo, accusato di aver eliminato la moglie Svetlana, di 47 anni, gettandone poi il corpo nel fiume Candigliano. L'omicidio avvenne il 14 dicembre 2013 a Piobbico, dove la vittima lavorava come badante. Il marito, da cui viveva separata da anni, l'aveva raggiunta in paese pochi giorni prima. Il 14 dicembre i coniugi erano stati visti insieme al mattino in un supermercato. Poi Svetlana è improvvisamente scomparsa, mentre l'uomo è stato avvistato in paese anche nel pomeriggio. Poi la fuga dopo aver preso un treno a Fano. Il ritrovamento del corpo da parte dei carabinieri avvenne il giorno di Natale del 2013, dopo che un boscaiolo riferì ai carabinieri di aver visto qualche giorno prima, lungo quel tratto del fiume, un uomo armeggiare con un masso. Il corpo della donna venne trovato vicino al paese, in un'ansa del fiume, con pesanti pietre arcorate alla testa in modo che non potesse risalire in superficie. Di lì cominciò la caccia a Roset, che si è conclusa circa 20 giorni dopo in Russia, dove l'uomo si era rifugiato. Il 52enne è comparso in tribunale insieme ai due figli, che non si sono costituiti parte civile. Dopo l'ammissione dei testi, l'udienza è stata aggiornata al 28 aprile prossimo.